Ciao a tutte ragazze, allora in video precedente vi avevo fatto vedere i prodotti che avevo trovato delle offerte make up di Lidl di Cien, alcune ragazze mi hanno chiesto di vedere in particolare applicata questa matita che è la Cien Eyebrow Styler Light Brown colore 601 che è un marrone chiaro, la matita è composta da così, da questa parte c'è la punta, non è automatica, quindi è quella che si fa la punta in legno e dall'altra parte c'è il pennellino per pettinarle, che non è altro che uno di quei semplici pennelli che trovate anche a parte, quindi super comodo se siete fuori casa vi potete portare dietro un prodotto unico. Allora, approfittavo per salutare tre ragazze che sotto quel video mi hanno chiesto di vedere l'applicazione di questa matita, una Alessandra Devoletta, ti mando un bacio, la Dani Daniela un bacio anche a te e Beolino del canale My Simple Life Beatriz del canale Beolino My Simple Life e vado un bacio anche a te, entrambe e queste tre ragazze hanno canali YouTube e quindi vi invito se vi va a andare a vedere appunto il loro canale allora partiamo, adesso speriamo di riuscire a fare una ripresa dove si vede di qualche cosa quindi approfitto per legare i capelli così vi faccio vedere bene 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 con il viso scoperto che cosa, come la questione allora, io adesso sono truccata lo specifico perché, a parte che si vede e come se si vedi perché la scorrevolezza della matita sulla pelle dipende anche da che cosa c'è come base quindi ho voluto, non ho voluto farla vedere sulla pelle struccata ma direttamente sul fondotinta, sulla base fatta diciamo perché il risultato cambia la schiavolezza della mina è diversa dato che di solito che si dà la matita per le sopracciglia tende a darla sicuramente quando si ha un trucco che è fatto e quindi una zona polverosa da trattare o comunque anche se una persona non si è dato il fondotinta o vuole essere struccata ma ha truccato, vuole sistemarsi le sopracciglia comunque un minimo di crema da giorno una base, insomma una crema idratante ce l'ha e quindi ho voluto provarla non sulla pelle diciamo nuda tra virgolette allora io prima di tutto le pettino adesso io guardo qui perché qui c'è il mio specchietto perché io lì fino lì non ci vedo cioè ci vedo ma non così da vicino da poter fare una cosa fatta bene adesso ve ne faccio vedere una perché credo che sia sufficiente anzi ne truccherò appositamente una sola proprio per farmi vedere la differenza tra una truccata e una no come colore vedete io ho le coprecie da castane non sono né castano scuro né castano chiaro un castano normale adesso faccio questa e poi ve la faccio vedere allora vediamo se vedo un po' di luce allora io prediligo le sopracciglia quelle con il colore bello pieno che però e quindi prediligo dei colori non eccessivamente scuri proprio perché non mi piace l'effetto quell'effetto troppo 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 finto tra l'altro io ho bisogno anche di una matita che copra bene che riempie bene tra un pelle e l'altro e ha i colori bene anche alla pelle proprio perché in questa sopracciglia io ce l'ho tendenzialmente più alla di gabbiano di natura in questa vedete invece come è più è più tondeggiante quindi per farle più o meno simili ho bisogno di una matita che comunque dia pienezza eh ho fatto un chignino che non devo fare dia pienezza alla sopracciglia insomma che posso andare a colorare la pelle diciamo dove non c'è troppo pelo e venga un effetto abbastanza naturale adesso io le ingrandisco un pelino perché ultimamente le fico partiglie se non pastiga pelle e senza voler esagerare troppo il risultato è questo quindi vedete ragazze adesso vi scusate l'inquadratura così vedete bene vedete non è molto chiara esattamente vedete come nella confezione vedete come sono diverse quindi nonostante io sia una matita chiara vedete come la riempite come la scorita questo era per farvi vedere eh praticamente il risultato potete tranquilla ah una scorrevolista scorrevolista ottima non è né troppo secca perché quelle troppo secche quando andate a disegnare perché io non ho l'abitudine di fare pelo per pelo ma vedete io le disegno proprio praticamente io parto da qui e poi le riempio riempito prima tutto questo angolino qua poi quando arrivo qui vedete tendo una riga e le riempio e le colorano faccio tratto per tratto faccio proprio le coloro come avete bisogno di una matita che non sia né troppo dura perché se no tira 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 si rompe la mina e non si colore il dentro vengono solo dei tratti decisi dove si vede il colore e neanche troppo morbida perché le sopracciglia comunque un po' ne ho e quindi si impasterebbe troppo il colore quindi è una matita buona secondo me perché è una buona via di mezzo naturalmente ragazze se la trovate troppo dura potete dare una crema di raltante sotto se la trovate troppo morbida potete fissare la parte prima con una cipra trasparente fate conto che io adesso ho dato stamattina presto il siero la crema da giorno e la crema con tornocchi e poi adesso da un quarto d'ora circa questa parte 20 minuti ho dato il fondotinta e ho opacizzato tutto il viso prima di dare la terra con la crema la mati con la cipra della essence quella matte trasparente quindi il fondotinta già questo è bello secco non stato c'è un fondotinta in crema della wicom poi ve ne ho già parlato di quello che uso l'estate nonostante sia così è stato opacizzato da questa cipra la mattita vedete come scorreva bene lo stesso senza essere un po eccessiva io spero ragazze di essermi spiegata di aver insomma fatto risposto ai vostri dubbi adesso prendo il telefono in mano scusate l'inquadratura vado davanti alla finestra quindi non davanti a una luce artificiale ve la faccio vedere sia sotto una luce artificiale che è questa sia alla luce del praticamente sole tiro anche la tenda così vi faccio vedere bene 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 il risultato come vedete è un colore abbastanza naturale non è né troppo giallo né troppo rossiccio né troppo marrone sì secondo me è si fa abbastanza bene con le mie ciglia ciglia e sopracciglia quindi questo è tutto ragazze vi mando un bacio 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 mi fa un certo effetto vedermi con le sopracciglia se non è una no finisco di truccarmi perché poi vado a fare un giro e se riesco a registrare il video dei terminati baby vi mando un bacio ciao ciao ciao